Musica E buongiorno? Oh buongiorno signora, prego mi dica Senta, vorrei duetti di prosciutto crudo Sì Mi raccomando, dolce e saporito Ah ah, ho capito cara signora Lei lo vuole DOP No DOP, adesso me lo devi fare Sì, no ma io volevo dire No ADESO, che è DOP No, devo andare alla scuola, ADESO Adesso E non DOP Sarego mi dai prosciutto che c'è una signora che lo vuole adesso e non... E non DOP Sì E questo è un po' rito e dolce Sì, è DOP E adesso lo vuole di fare Sarego, quando vuoi signora? Due Due Vai con la macchina Sarego, un attimo solo che adesso Sarego, Sarego, la servei subito Sarego, 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 e mi fa Dio Saigo, sarego, mi sape, mi... Grazie a tutti